Sembra nebbia, ma in realtà stiamo cercando il posto del parcheggio qui a orientano. Sembra di essere a Milano, ma in realtà siamo nei boschi nebbiosi dalle macchine. La Franca che è venuta con la macchina scappottabile sta mangiando polvere tutto spiato. Intanto una bella musichetta in sottofondo. Le macchine che si arrancano nel bosco, un posto secondo me dimenticato da tutti. Hai mangiata la polvere o? Naturalmente mi ha detto accedere. Io dicevo accedere a fargli mangiare la polvere. Guarda va che figata è questa io. No, non si può vedere la macchina così. Questa è una Batmobile. Guarda va che cuci. Era Batmobile. Comunque la polvere è mangiata. Ecco qui con uno strano strumento abbiamo qui Daniele. Chi ci fa in questo strumento? L'antitafano. L'antitafano. E' l'uso contro i tafani quindi. Certo. Favere come lo usi. I tafani, i gialloni, tutto qua. Favere come lo usi io. Guarda. L'antitafano, hai visto? Siamo passato maso, ma comunque è per i tafani. È finita ora la corsa. Come vedete da Ristoro si capisce che ci fa qualcosa di interessante. C'è un bel assembramento. Chi ride? Buonasera a lei. È lui, è lui. Un ride maio. Noto, noto, noto con piacere che la gente si mette lì a cosa e via. A cosa, c'è la pizza capito? A mangià perché ha spiegato tanto. Aspetta una pizza, c'è stasi tre ore gli aspettati. Eh, io non lo so se si comperebbe. Il primo appena c'è anche Santaragù. Guarda, Santaragù è stupido di nero. È lui. Santaragù è lui. Santaragù è lui. Ah, Santaragù. È abbastanza così. Dici un po' una parolaccia. No, no, no. Parolacce non le fa. C'è del tremila. È vero, sono passati nove mesi. Nove mesi, sei educato. Il problema è che ormai conoscendo tutta la massa di peure che ci si tricola intorno. Dici, ma io non dico. Magari non vedo personaggi strani, a parte Santaragù. Ecco lui, ecco lui, ecco lui. Ecco, è colpa sua, vedi. L'hai trovata la pizza, l'hai trovata la pizza. Come vedete, uomo de panza. Uomo de saltanza. Ma si diverte. Io sì, perché io tanto sono quello che mi accomuno alla saga di quelli che commentano, capito? Sì, la saga, la saga. No, perché quello è passare ora. Vai, fammi chiudere che lui mi fai consumare tutta la massa. Ok, ok. Sì, è vero.